Anche la fauna è sulla riva in attesa che la piena cale ma è rientrato nei suoi archini siamo qui dal fronte di alluvione l'acqua è arrivata fin sopra il ponte lasciando la plastica che galleggiava su di esse le case accanto ancora sono piene di fango e siamo ancora qua canteremmo come una canzone di siamo ancora qua a denunciare è vero quando siamo andati a protestare verso le autorità ci hanno detto che queste abitazioni sono tutte ai margini della legge illegale abusive ma alcune di esse ma intanto il fiume va avanti nella sua storia nel suo corso quelli che vedete sono ancora gli agini potremmo dire borbonici non è stato messo un mattone per contenerlo la serie di anatre germani reali sono sulla riva a guardare in attesa della calma perché questa piena con questa velocità gli impedisce fino anche di cacciare eppure abbiamo tanti enti proposti per la cura e la custodia di questo fiume abbiamo la possibilità non solo di accrescere e innalzare gli argini ma anche quella di creare una cassa di espansione visto che ci sono dei territori liberi e quando il fiume incontra il mare nella sua onda l'ingresso potrebbe agevolare sicuramente questa frazione di Castellammare che non è piccola che non è limitata nel numero degli abitanti è vero è una zona industriale diciamo così ma comunque è abitata comunque ci sono la signora che ci gridava dalla finestra che non poteva uscire grazie a tutti grazie a tutti